buongiorno prima mattina ora mi sto svegliando ora inizia la giornata abbiamo alcune cose da fare perché stiamo preparando qualcosa per il santo natale per tutti i nostri fan e dire un buongiorno a tutti gli ammalati a tutte le persone che soffrono a tutti i detenuti del mondo con una presta libertà un bacio da alessandra co a presto con il nuovo lavoro di scopata e per natale ci saranno tante sorpresi andiamo a prendere il caffè venite questa è la mia la mia bella taverletta che mi sono costruito con le mie mani quando non si canta un po di nebo libero la sono costruita ecco qua un po di caffè a prima mattina ci mettiamo in macchina e così inizia la giornata e dirvi bacio a tutti i miei amici e ai miei fanzi di facebook un bacione veramente di vero augurio e mi raccomando seguitemi a facebook perché a giorni ci sarà una grande sorpresa con alessandro e felice contro poi vi aggiorneremo un bacio a tutti ciao